Salve a tutti e bentornati in questo nuovo tutorial ragazzi in questo nuovo video vi spiego come risolvere il problema che quando vai a digitare oppure premi il tastierino numerico sulla tastiera e in questo caso il puntatore del mouse si sposta da solo quindi questo può dare un grande fastidio per risolvere questo problema tu basta che vai direttamente su il tasto di Windows Start, tasto destro sopra vai sul sistema, accessibilità, scendi fino a giù fino a trovare mouse se sul tuo sistema operativo tieni attivato questa opzione del controllo puntatore il puntatore del mouse fa così come puoi vedere io adesso sto premendo il tastierino numerico e mi si muove così anche il puntatore del mouse e lagga anche quindi per disattivare questa cosa clicchi qua sopra e se vai a cliccare di nuovo il tastierino numerico si è bloccato quindi se questo video ti è stato utilissimo su come risolvere questo problema del tastierino numerico che influisce così sul puntatore del mouse iscriviti, lascia like e noi ragazzi ci vediamo ad un prossimo video ciao ciao